Musica ETG più sindaco ben ritrovati, buonasera ad Alessandro Rapinese, primo cittadino di Como Buonasera a tutti i telespettatori di ETG più sindaco Che visto che questa sera è arrivato con la tazza del rugby Como Perché sappiamo il destinatario dell'abbondino d'oro Però io rilancio subito Prima parliamo dell'abbondino d'oro Oltre all'abbondino d'oro, ovviamente una benemerenza benvenuta sicuramente La più alta benemerenza cittadina Ci sarà anche un nuovo campo sportivo, un campo sportivo riqualificato per il rugby Como? Allora innanzitutto questo è un riconoscimento a tutte le società sportive cittadine Che stanno lottando contro una situazione degli impianti disastrosa Per quanto riguarda l'impiantistica del rugby Como Al pari di molti altri, ricordiamoci i ragazzi del nuoto e tutti gli altri Stiamo lavorando a testa bassa Penso che le delibere di questi giorni facciano capire Che dopo 20 mesi di attentissima valutazione quotidiana di tutti gli aspetti Ora tutto quadra, ora tutto torna, si parte E di solito mi sembra che in via Sinigallia stiano lavorando Via Giulini stiano lavorando, a Villa Olmo stiano lavorando Per il rugby però siamo fermi a gare andate deserte C'è qualche novità Le gare sono andate deserte Per prima cosa, visto che bisogna essere chiari Di certo non è una responsabilità da imputare alla politica Però sicuramente la politica ha cercato e sta cercando soluzioni Che mi auguro si possano trovare E comunque sia, proprio le condizioni dell'impianto disastroso di Via Belvedere Testimoniano quella che è la loro pervicacia Nel lottare contro situazioni praticamente impossibili In una terra che senza di loro non avrebbe avuto l'alternativa Di poter offrire questo sport Proprio perché ci hanno creduto intensamente Fanno corsi a tutti i livelli Per cercare di coinvolgere quante più famiglie possibile Quest'anno amplieranno ancora i servizi Ecco, proprio perché l'amministrazione comunale Nei decenni, e parliamo di almeno 30-40 anni Che quel campo non ha nessuna tipologia di manutenzione Questi signori hanno lottato, coinvolto famiglie, coinvolto bambini E c'è un'unità, uno spirito di sacrificio, un rispetto dello sport Ecco, sono il nostro più grande servizio sociale Anche adesso però i lavori sono a rischio ancora I fondi sono del PNRR I lavori sono ancora da considerare a rischio Perché se non ci sarà in tempo un'azienda incaricata Difficilmente si potranno fare Su questo penso di essere stato chiaro E anche molto fermo nella risposta Ho detto che ci stiamo lavorando E ribadisco Voi avete saputo della Ticosa il giorno in cui montavano le telecamere Cioè l'ultimo giorno possibile Diciamo che prima che voi sapeste delle telecamere della Ticosa Era un lavoro che nel frattempo procedeva E allo stesso modo stiamo procedendo Speriamo e continueremo a vigilare Apro le telefonate tra pochissimo Mi scuso ma poi se no il tempo è sempre poco Ma dobbiamo parlare un attimo anche della piscina di Mugio E del palazzo del Ghiaccio Perché effettivamente sono state presentate il piano A e B Per la piana di Mugio Per il futuro della piscina e forse anche di altri impianti sportivi Qual è la situazione reale? La situazione reale circa il palazzo del centro tecnico federale Purtroppo non essendo il governatore di regione Lombardia Non è dato a me saperlo Però certo è che come dicevo pochi secondi fa Anche per il rugby In questi venti mesi Tra sopralluoghi, contatti, verifiche Possibilità, opportunità, controlli Su quella piana e su quella piscina Abbiamo buttato il sangue Ad oggi, devo dire che in una maniera utile Alla fine dei venti mesi di governo Una cosa simile Siamo arrivati ad avere le idee chiare Abbiamo proposto Anche perché eravamo pronti da quattro mesi Abbiamo depositato quel progetto a regione Lombardia A regione Lombardia non ci ha risposto Oggi ci sono due piani sovrapponibili Una soluzione come le definisce A o B Che hanno una serie di variabili Che dipendono da regione Lombardia Ovvero il grande palazzetto Del centro tecnico federale Oppure un palazzo del ghiaccio piccolo Piccolo, normale Grande come quello di Varese di oggi E un palazzo dello sport normale Però c'è una piscina Che è sovrapponibile Noi su questa partiamo Partiamo quando? Partiamo In verità siamo già partiti oggi E come dicevo Di Cantieri ne abbiamo avviati 62 L'importante qui era fare una cosa E farla bene e farla chiara Quindi partirete con la piscina A prescindere da quello che sarà La decisione di regione A prescindere per il semplice fatto Che la regione La regione sulla piscina Non ha nulla a che vedere Quello è il grande palazzo Oggi c'è un piano urbanistico Ben definito E lo ribadisco Di Cantieri ne abbiamo fatti partire Non uno, non due, non tre Non quattro, non cinque Non venti, non trenta, non quaranta Ma 62 Di conseguenza Se abbiamo deciso Che adesso si parte Si parte E a quelli dell'opposizione Che dicevano Che nel quinquennio Rapinese sarà l'unico sindaco Che non avrà una piscina olimpionica Vorrei dire Visto che lo avete riportato anche voi Che tante volte Mi hanno sottostimato Anche durante le elezioni Avevano già lo champagne in fresco Questo lo vedremo però Ne parliamo C'è ancora tempo No ma sa perché? Perché parlarne dopo è facile Adesso parliamo del presente Lei lo sta annunciando No io sto dicendo Io sto semplicemente dicendo Hanno sottostimato Rapinese troppe volte Non hanno ancora capito Che ogni volta che l'hanno fatto È stato fatale per loro Continuino a ridere Poi per le cicale Arriva l'inverno Allora prendiamo anche una telefonata Pronto? Buonasera Buonasera a lei Buonasera signor sindaco Buonasera E niente Io vorrei dire due cose Al signor sindaco Io ho detto in via Santa Marta Sì Buonasera Buonasera Il primo pezzo della via Regina Che è veramente una vergogna No ce n'è di peggio Hanno asfaltato il lato Dove si parcheggiano le macchine E hanno lasciato l'altra parte Con le buche A parte gli arbusti Che vengono fuori Che sono veramente Una cosa vergognosa Un'altra cosa Che volevo dire Signor sindaco Guarda che io Sono quattro volte Che prendo il mio Decespugliatore E faccio tutte le cunette Fino alla via Montanotondo Perché lì non viene nessuno Non viene Cioè ci sarebbe Da asfaltare il tunnel E il tunnel Privato o pubblico? Il decespugliatore Su che verde è? Sono costretto andare giù Di mattina Da mia mamma Che sono in sala Con lo scooter Mi scusi ma Ma il decespugliatore Lo usa per del verde pubblico O privato? È un terreno pubblico Quello da cui esce O privato? No no È pubblico È solamente Che gli arbusti Arrivano in strada Lei lo ha segnalato? Ma certo È già quattro volte Che chiamo A cosa del cittadino Certo Che segnala anche I vigili Quando vengono Lì a fare le butte Ma nessuno Ma nessuno Mette mano Signor sindaco Grazie Lo segnaliamo Intanto la ringrazio Ci starà sentendo Allora lui sta parlando Dice che la via Regina Il primo pezzo È un disastro E via Santa Marta Devo dire che Un disastro Sono anche Quei 4 milioni di euro Di asfalti Che abbiamo stanziato Adesso per stanziare E chiedo scusa al signore Chiedo scusa al signore Non è che io possa Spendere un miliardo Di euro in asfalti Si informi Si documenti Abbiamo speso Abbiamo stanziato Più di 4 milioni Mi sembra che Sant'Agostino Fosse un disastro Potrei fare un elenco Infinito di strade Che abbiamo già asfaltato La Napoleone Se volete Tutte le vie Fatte in un solo anno Mi sembra impossibile Di certo posso dirvi Che le asfaltature Che state vedendo adesso Non le avete mai visto Neanche quando gli altri Facevano le campagne elettorali Allora Sentiamo un'altra persona in linea Mi spiace Mi spiace Per il Giacespugliatore Chiara Bodrono Maccabeo Segni bene Il via Santa Marta Perfetto Pronto buonasera È in diretta Prego Pronto buonasera Sono Anna E abito a Tavernola Sì Io vorrei segnalare Un problema Che sta risultando In questo periodo Allora Vi abito in via Zara Che è A Tavernola Stanno costruendo Un supermercato Di fianco a casa Con ingresso E uscita Sulla via Asiago Che già ora È stretto E pericoloso Qualcuno del comune Può verificare La corretta dimensione La corretta dimensione Della strada Se è stato È stato rilasciato Un titolo Probabilmente Ci saranno Magari anche Degli interventi E grazie a Dio Il sindaco Può avere La componente politica Ma di certo Non la parte gestionale Di conseguenza Ed è per questo Che la Repubblica Vuole questa mela Che è l'amministrazione Divisa in due Da una parte C'è la politica Che dà Le scelte di opportunità Ma le scelte Di legalità E competenza È bene Che i cittadini Sappiano Che non competono Al sindaco Che anzi È bene Che se ne stia Proprio alla larga Arrivo subito Alla telefonata Ma leggo prima Un messaggio Sono una mamma Di Sagnino Volevo farle sapere Che il nuovo servizio Mensa Della scuola elementare Non sta funzionando Parecchi bambini Si lamentano del cibo Non è buono E arriva in tavola Freddo La lamentela Riguarda tanti bambini Noi genitori Paghiamo per un servizio Che non funziona I nostri figli Non mangiano L'uscita da scuola Sono affamati La prego di cercare Una soluzione La soluzione L'ho già trovata E da mo Nel senso che Quante volte Quante volte Hai sentito parlare Un punto unico di cultura Siamo alla selezione finale È stata fatta la gara Sono arrivate due offerte I tecnici E anche ieri Ho fatto una riunione Per vedere a che punto fossero Stanno valutando Ed è la fase più complicata E più lunga Del processo di selezione Quelle che sono Le due offerte Che sono state fatte Dopodiché Nel rispetto della legge Verrà sottoposta Alla giunta Una scelta Con le valorizzazioni E tutte quelle che sono Le comparazioni Tra le due offerte La giunta sceglierà E fine del cinema Di conseguenza C'è una procedura Molto lunga Nel frattempo Siamo andati In ampliamento Di quello che è Il servizio Che era stato offerto Io devo dire Che ogni tanto Mi capita Proprio per verificare Il servizio mensa Di girare per le scuole E magari di fermarmi a pranzo Devo dire Sarò fortunato Sarò fortunato Ma onestamente Io non ho mangiato Ste robe Poi devo dire Che tutto può succedere Nella vita Mi auguro Che sia stata Solo un aspetto Di scelta Di non apprezzamento Della cottura Ma che la qualità Fosse buona Di cosa parliamo E francamente Devo dirle Che è la prima volta Che sento dire Che il cibo Non è buono La prima La prima L'ho visto anche Personale di qualità Coinvolto Dopodiché Cosa posso fare Interrompo Un bando in essere Una selezione Che arriva Dai tempi Ben prima Che io venissi Eletto sindaco Faccio Dico No basta Certo Ecco Questa è la prima selezione La prima segnalazione Non ci sarà già Dal prossimo anno scolastico Però il punto unico Di cottura Sicuramente no Però sicuramente Dal prossimo anno scolastico Sicuramente no Mi viene a dire Settembre 24 No Però devo dire Che arrivare già A una selezione A questo livello È buono Poi ribadisco Io per un bagno Una volta Ci ho messo più di un anno Tra idraulico Che non faceva Suo dovere Se la gente sapesse Le tempistiche Del bando pubblico Capirebbe che è un processo Che sta arrivando E cosa devo fare Io con il vecchio contratto Che era in essere Porto avanti Il servizio eccetera Chi abbiamo in linea Pronto buonasera È caduta la linea Mi scuso Intanto segnalano Il verde anche All'asilo di Albate Nido di via Longhena E poi invece Molti ci chiedono Della capienza Dello stadio Sinigallia I mille posti in più Promessi entro novembre Dei quali Non si sa nulla Promessi da chi? Ne abbiamo parlato Credo anche qui Ne abbiamo parlato Sicuramente in più occasioni Ma promessi da chi? Sicuramente lei Aveva parlato di novembre Come scadenza Per i mille posti in più Nel senso Era stata data come Allora Nello specifico Mercoledì ero in giunta E come avete saputo poi Era una giunta Molto importante Per la mia amministrazione Ho mollato la giunta Ho preso ciabattoni Siamo andati Ciabattoni in prefettura Provo a parlare Dei mille posti E più di così Non compete a me La realizzazione Dal punto di vista Della società E per quanto riguarda Le autorizzazioni Ci sono una serie Di enti coinvolti Che sono La questura La prefettura La prefettura I vigili del fuoco I tecnici Per le certificazioni Eccetera Quello che doveva fare il comune È stato fatto Quello che doveva fare il comune È stato strafatto Ed è bene Che si capisca Lo dico per la millesima volta Chiamate in società Mandate le email E penso che nessuno Nessuno nella società Calciocomo Possa dire che il comune Non sia a fianco Totale e pieno Della società Quindi io più che dirlo Ogni volta che ci incontriamo Non posso fare Però quello che posso dirle È che dipendesse da noi Ok Ma anche gli altri enti Però non sono lì a giocare Nel senso Probabilmente la questura È preoccupata Di un aspetto di sicurezza Di gestione Di quei mille in più Non è che la questura Vada a dire Sì no Devo dirle Quindi io non sono ancora Nemmeno certi Per quanto riguarda Come? Non sono ancora Nemmeno certi La procedura deve essere conclusa La procedura deve essere conclusa In termini Di autorizzazioni Da parte dell'ente Nel senso che Noi siamo l'ente proprietario Problemi zero Ora devono essere soddisfatti Dei requisiti Che mi auguro Vengono soddisfatti Quindi non sono ancora scontati Questo No no Nel senso Allora Per quanto riguarda Il mio ente La risposta L'ente che ora Vede me al vertice La risposta è sì Punto È chiaro Ora è chiaro Chiavia mellinea Pronto o buonasera 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 Sindaco Buonasera a lei Senta io volevo fare due domande Sì Della cupola Scusi Non abbiamo capito Cupola del Duomo Probabilmente Meglio lo posso dire Prego Non ci risponde più Quindi dica Sindaco Allora Per quanto riguarda La piscina Senigallia Non mi segnalano ritardi Di conseguenza Era scadenzato Per il mese di novembre Stanno andando avanti Adesso Ci sono state Delle Discussioni Con la soprintendenza Per quanto riguarda La dimensione Delle piastrelline Due centimetri Due centimetri In mezzo Però devo dirvi che In mezzo a tutto il marasma Che avete visto All'albopretorio In questa settimana Sulla piscina Senigallia Non sono andato io A stimolare gli uffici Per darmi aggiornamenti Però normalmente Anche per avvisare La cittadinanza Se arrivano in ritardi Me lo comunicano Come spesso È capitato E non perché siano Lì a giocare biglie Ma perché capita a tutti Al momento non c'è stata Nessuna segnalazione Il signore parlava Se parlava della cupola Parlava della cupola Del Duomo Abbiamo già fatto Alcuni cittadini L'avranno visto Spero non abbiamo pensato Che andavamo su A danneggiare la cupola Stiamo verificando Tutti quelli che sono Gli attacchi Sulla cupola Avevamo detto Entro Natale E mi auguro Che entro Natale L'illuminazione Della città Possa giovare Anche del fatto Che finalmente Si vede la cupola Perché ogni volta Che arrivo Da via per Cernobbio Vado in via Prudenziana Salgo verso La via per Brunate Guardo il Duomo Lo vedi a fianco Sul lati Bello illuminato Quando guardi la cupola Dici ma cosa è successo lì Arrivo alla telefonata Ma prima Giusto una domanda importante Ho visto che si è parlato Della piana di Mugio Con il nuovo stadio del ghiaccio Quale destino avrà L'attuale stadio del ghiaccio Di Casate Quando avremo Finalmente Il palazzo del ghiaccio A Mugio Ne parleremo Quel giorno Non interrompiamo Se non si interrompe di suo Visto che è decadente Non interrompiamo noi L'attività Quindi sicuramente Fino al giorno Dell'inaugurazione Del nuovo palazzo del ghiaccio Qualora ci fosse Qualora ci sarà Abbiamo detto Che la nostra priorità La nostra priorità La piscina Eccetera Rimane Casate Di certo Non giro la corrente Se non lo consente Però non si va nemmeno A fare degli interventi Ovviamente importanti Su Casate E no Anche perché Sennò rimaniamo ancora Anche lì senza ghiaccio Pronto? Buonasera Che abbiamo in linea? Buonasera Buonasera a lei Volevo chiedere Sul marciapiede Davanti all'hotel posto Ci sono due canaline Enormi Che si continuano a inciampare Mi hanno detto No inciampare Quali canaline? Mi scusi Sta parlando di quelle due Che sono all'interno Del marciapiede Ma che sono bloccate Perché dove deve andarci Il bagno Quelle? No Sono due canaline Sul marciapiede Sul marciapiede Questa è bella Sul marciapiede Proprio davanti al posto Ma su quello nuovo Che abbiamo appena fatto Per i pullman nuovi? No 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 Le canaline Che portano l'elettricità L'hotel posta Ah l'hotel posta Sta parlando di via Garibaldi Mi scusi Stavo pensando Alla tangenziale Al Cos'è che stava dicendo? Ci sono le canaline Dove si inciampa Guardi E non so cosa dirle Vado a verificare Mi hanno detto Che stanno aspettando E tre anni E mi dicono Che stanno aspettando Le autorizzazioni Dal comune di Como Lo segnaliamo allora Per rimuoverle O per fare che cosa? No perché canaline Il comune di Como Mica Eroga servizi elettrici No Sono canaline Però sul suolo pubblico Penso che voi Dovete dare l'autorizzazione Ci sono alcune Per le quali Dobbiamo dare l'autorizzazione Altre che invece Se le prendono Tipo le compagnie Elettriche Che hanno delle deroghe Però Detto così signora E poi tanti dicono Che è il comune Di solito Non sanno cosa dire Secondo Volevo chiedere C'è una buca enorme Davanti In Borgovico Che io passo In considerazione Davanti alla Alla scuola Anche io Mi sono passata E devo dire Che sono Signora Deve decidere lei In questo momento Abbiamo l'autostrada Mi sente? Sì In questo momento Abbiamo l'autostrada Che ci crea della coda Se lei mi autorizza Se me lo dice lei Io lo faccio No Se lei mi autorizza Io lo faccio Asfalto La Borgovico nuova E rimaniamo tutti bloccati Fino a Pian del Tivano Non sia provocatorio Però Adesso esageriamo Quando farete La vorigia a Borgovico Dopo la chiusura E l'autostrada Fino a che non c'è l'autostrada È meglio non toccarla Decisamente Io sto solamente Informandola No no Grazie signora Io immagino Che una buca Se è proprio grossa Si possa tappare Anche senza aspettare I lavori definitivi Grazie signora Buonasera Anche qua Dobbiamo vederla Però Visto che c'è stato Informiamo la città Visto che c'è stata Questa campagna La Borgovico A parte che la Borgovico Non è messa peggio Di molte altre Purtroppo E l'abbiamo detto Cento volte Ma di sicuro Sarei un pazzo Se mi mettessi Ad asfaltare La via Borgovico nuova Mentre già Abbiamo una coda infernale Per colpa dell'autostrada Quindi Segnalo anche Via Leoni Una strada in cui Le macchine sfrecciano A velocità Che non consente ai pedoni La sicurezza Pensare a un dosso Delle strisce bianche Prima di Vianzani E' bene che i cittadini sappiano Per far attraversare i bambini E' bene che i cittadini sappiano Perché poi Tutte queste soluzioni Sono belle Uno le dice Non ha la minima cognizione Di quello che dice Ma propone il dosso così I dossi sono limitati In funzione delle strade Dove possono passare Servizi di pronto soccorso Emergenza Urgenza Cioè non è che puoi mettere Il dosso dove vuoi Ed è una limitazione Di conseguenza Tante volte Non si può proprio fare A meno che non siano strade Che abbiano proprio Una percorrenza A bassa velocità Quindi Sta leggenda del dosso Messo dappertutto Perché mettiamo i dossi Dappertutto Non si può fare In assoluto Che poi ci siano Incivili dappertutto Questo è un altro paio di maniche Ma se devo contare Le segnalazioni Che ci arrivano In relazione alla velocità Mi sa che dovrei mettere La città di dossi Ma penso che Il deficiente Che va a 2000 all'ora Poi va in giro Con il SUV E non sente i dossi Quindi avremo il problema Di quello di SUV A un certo punto Uno può arrivare dappertutto Ma ha un minimo Di coscienza individuale Vi ricordate i tempi Della partumiera Certo Allora Sentiamo anche Che abbiamo in linea Pronto? Buonasera È caduta la linea Intanto il Politeama Sindaco Bello Stamattina ho proprio sentito Il vecchio amministratore Delegato della società E ci stiamo Telefonando spesso Perché io e lui Abbiamo ancora Una partita aperta Che è quella Della informativa In relazione A quello che è stato Lo sviluppo Del progetto Del tavolo Che avevano fatto Prima che noi lo comprassimo E appunto Con il dottor Nessi Anche stamattina Ci siamo sentiti E ha detto che A breve presenterà Quella relazione Che era la conclusione Gli studi Nel frattempo Devo dirle Che siamo Coinvolti Nel passaggio Di proprietà Anche Di quella che è L'impalcatura Che c'è In prossimità Perché quell'impalcatura Misteriosamente È un'impalcatura Che non va bene Per fare opere Nel senso Un'impalcatura Che è stata posata Per fare le pubblicità Cardelloni pubblicitari Ma allo stesso costo Avremmo potuto mettere Delle impalcature Che sarebbero andate bene Anche per poter fare Dei lavori Anche delle manutenzioni Iniziare a Di fatto Questo è il primo tema Da risolvere Qualunque cosa succederà Del Politeama Qualunque incontro Ci sarà Con il tavolo Del Politeama Che ha elaborato Tutte le prospettive Noi quello che abbiamo detto È che vogliamo Avviare un processo Di manutenzione Abbiamo parlato Con la dottoressa Mimmo Con l'architetto Mimmo Della sovrintendenza Più volte Per quelli che possono essere I primi interventi Di consolidamento strutturale Delle facciate In maniera tale Che non capitino Altri danni E stiamo Parlando Abbiamo parlato Con ipotesi Di concessioni Pubblicitarie Che possano magari Finanziarne una parte Da ristrutturazione Come avevamo detto Stiamo facendo i conti Proprio in termini Di metri quadri In relazione a Perché uno degli aspetti Che è passato in giunta Che questa settimana Che è rivoluzionario È che la mia amministrazione Non vuole introitare soldi Per poi spendere soldi Con tutto un tramite Di procedure lunghissime L'ideale È quando succede Che prendo i tuoi soldi Mi devi mezzo milione Come è successo Questa settimana Mi devi mezzo milione Sì va bene Non darmelo Spendilo tu Con le opere E questa settimana Abbiamo visto Ad esempio Diciamolo ai cittadini Perché poi Facciamo così tante cose Che neanche mi ricordo Di dirle In via Santa Chiara Dove ci sono le due scuole Dove quando uno entra Entra in un vicolo infernale Perché la mattina Ci sono due scuole Dove si incastrano tutti E c'è una mangrovia Sulla destra Dove io ho paura Che ogni tanto Escano degli scimpanzei Da lì Perché non si riesce neanche Abbiamo fatto questa cosa C'era un operatore Che in funzione Di una trasformazione Senza mettere un metro cubo Doveva riconoscere Al comune In questo caso 397 mila euro E abbiamo detto Molto bene Non darmene 200 e 8 mila euro Spendili direttamente tu Con una serie di benefici In termini di tempo E anche economici E di interventi pratici E questo è stato fatto Visto che Si può fare lo stesso Col Politeama? No, non si può fare Tutto questo Col Politeama Non va bene Neanche se dessimo In superfici pubblicitarie E tutto quanto Però se Sommando una serie Di superfici pubblicitarie Riuscissimo a dare Almeno Quello che può essere Un piccolo consolidamento statico Della facciata Mettiamo in sicurezza Questa cosa Ed è molto più rapido Che non partire noi E perché è questo? Perché questo non va Nella decisione politica Di tutto quello Che sarà il Politeama La cultura eccetera eccetera Ma il consolidamento statico Lo posso fare? Sì La soprintendenza ha detto Sì Bene Sindaco Un messaggio Sono una studentessa Della Magistri Vado tutti i giorni A scuola a piedi Senza la presenza Di un marciapiede Io come tutte le persone Che passano per la via D'Annunzio Via Varesina Devo camminare In mezzo alla strada Aggiungendo che il pezzo Di marciapiede In via Varesina È distrutto Non solo è pericoloso Ma anche una grandissima Barriera architettonica Per i disabili Perché una persona In carrozzina Non potrebbe mai passare Su una strada del genere Beh Questa studentessa Dica Diciamo Questa studentessa Che mi spiace parecchio Però ad esempio Questo sindaco E anche questo Nel giro di due settimane fa E ci siamo dimenticati Di dirlo Via Castelcarnasino Che è quella che va A Villaprica Che oggi è il trionfo Del pericolo E della discriminazione Nei confronti dei disabili Perché se un disabile Con carrozzina elettrica Arriva in cima Alla via Castelcarnasino E lo sapranno bene Quelli che ci stanno ascoltando C'è un imbuto Dove il disabile Lo devi tirar giù Dalla carrozzina Tirar su la carrozzina Metterla al di là del jersey E riposarlo Nella carrozzina Lì un nuovo marciapiede Arriverà Ed esattamente Dopo l'ultima rotonda Bella illuminata Di Sanfermo Quando si inizia a scendere Dalla via D'Annunzio Che manca in marciapiede Fino ad arrivare In piazzale Giotto Anche lì Sono centinaia di metri Di nuovo marciapiede Se volete Tutti i marciapiedi Quest'anno Mi spiace Non è Non è il caso Iniziamo già sistemando due Poi stiamo guardando La via Asiago Che è un altro aspetto E ce ne sono Ce ne sono di cose da fare Però Vi garantisco Che a mezzogiorno Io non stacco E vado a giocare a golf Ma sono a Palazzo Cernese Non va a giocare a golf Ma oggi è andato a giocare a bocce E lei come lo sa? Non so Mi sembra che Ha tentato di fare Una partita Della pace No Non ho fatto una partita Della pace Sono andato a parlare Con i miei amici Della bocciofila E cosa ne è uscito Da questo dialogo? Abbiamo detto Che ce lo teniamo Riservato e segreto Però devo dirle Che è stato un incontro Molto gradevole Io devo dire Cosa succederà Sindaco? Li sfratta o non li sfratta? No Che da lì debbano andare via Non c'è nessun dubbio E questo è un caposaldo Irrinunciabile E lo sanno bene anche loro Devo dire che i rapporti Sono ottimi E mi auguro È avviato un percorso Per far sì Che si possa collaborare Fino all'ultimo giorno In cui dovranno andarsene Cioè ha concesso più tempo? Finché non ci sarà In verità In verità Io sto aspettando da loro Una bella comunicazione precisa Su questo ci siamo accordati Di testimoni Ce ne erano una quarantina Perché c'erano Tutti i signori anziani Abbiamo parlato Del futuro E abbiamo parlato anche Del fatto che Quello spazio Andrà a Comunicomo Se lo facciamo In una maniera intelligente Coordinata È meglio per tutti C'è una proposta alternativa? No, la prima cosa Che dobbiamo fare È trovare un'alternativa Ma prima ancora Di trovare un'alternativa Visto che Fino a poco tempo fa Quello che si diceva Era noi non ce ne andremo mai Eccetera Ho detto guarda Adesso Troviamo insieme Un'alternativa Aprimi la porta Al fatto che valutiamo Un'altra sede Abbiamo avviato un percorso Valuteremo un'altra sede Faremo le cose Come era giusto Che si facesse Quindi a noi serve Rimarranno finché non è Finché non partiranno i lavori Questo è il concetto E poi si troverà Una soluzione alternativa Sarà un rapporto civile Tra cittadini comaschi Civilissimi Nessuno dirà Vai via per il gusto D'andar via Nel senso che In funzione di quello Che è un progetto Ed è uno spazio Quello che cercavo di spiegare Oggi loro L'hanno ben recepito Che sarà uno spazio pubblico Bellissimo Ma bellissimo E a questo punto Vedremo Se lo spazio Che abbiamo proposto oggi Che gli uffici Stanno sentendo In funzione di un percorso Che possa andare bene Che eronia della sorte Potrebbe avere anche Delle bocce vicine Sì Siamo veramente in chiusura Vediamo se abbiamo Una domanda flash Perché avevamo una persona in linea Non me ne vado anche io Pronto buonasera Una domanda flash Ci dica Sono Davide Dacomo Prego Sono Davide Dacomo Sì prego Velocissimo Non ascolti il televisore Quando Eh? Dica Deve ripetere la domanda Se ne ho fatti più in curva Quando Cos'è? Impliamento della curva Eh se ne ho fatti più in curva Abbiamo risposto ampiamente Beh però Davide Guardi la trasmissione Dall'inizio della serata Esatto Abbiamo risposto ampiamente Se no la guardi su Youtube Sindaco come procede La questione del parco giochi Del parco giochi al tempio Quando inizieranno i lavori E quanto dureranno? Parco giochi al tempio Al tempio Penso i giardini a lago Ah ok Giardini a lago Allora come vi stavo dicendo Settimana scorsa Credo perché poi alcune domande Sono cicliche La pratica è All'ufficio contratti L'ufficio contratti Sta dormendo? No L'ufficio contratti Sta aspettando certificati Antimafia eccetera eccetera Che dipendono da soggetti terzi Appena l'ufficio contratti Che ho Ogni venerdì sera Mi mandano una situazione Con tutti i contratti In pending Quelli che mancano E a che punto sono E quali sono i motivi I cittadini sappiano Che l'ufficio contratti Del comune di Como Per il tramite La nostra avvocatessa Responsabile Avvocato responsabile Ha la situazione Sotto controllo Ha mandato Alle autorità competenti Noi vorremmo Una famosa Quindi quando si parte Con i giardini a lago Lei vorrebbe Un'azienda malavitosa Io vorrei Il giardini a lago Anche io Secondo lei no Quello che sto aspettando Non sono ancora finite Le verifiche Questo sta dicendo Quello che l'ufficio contratti Sta facendo Sta aspettando I documenti Che possano per legge Consentire Di firmare il contratto Non possiamo firmare il contratto Finché anche noi Dipendiamo da enti pubblici Come i cittadini Che vorrebbero tutte le buche Anche noi ci relazioniamo A altri enti pubblici Che ci devono dare Delle conferme L'ufficio contratti Appena riceverà le conferme Che possiamo procedere Con quell'azienda Noi firmiamo E andiamo Allora Il tempo è terminato Purtroppo mi spiace Per tutte le domande A cui non abbiamo risposto Come sempre Posso far vedere La tazza E aspettiamo sempre Anche il campo Ma ci saranno sorprese Il sindaco Grazie a chi ci ha seguito E TG più sindaco Torna venerdì prossimo Buona serata Buona serata a tutti Buona serata a tutti